salve a tutti bentornati sul canale dell'armageddon duelist gaming non mi faccio vedere da 1 o 2 settimane non lo so non penso di esservi mancato cosa tratterà questo video in sintesi innanzitutto parliamo dei torni che organizziamo di solito la domenica a parte quando abbiamo fatto a pasquetta abbiamo svolto il quinto regionale dell'armageddon domenica ci sono stati un po di problemi dovuti ai server di di più più qualche distrazione da parte mia per questo motivo non mi sono sentito di tra virgolette incassare soldi da questo torneo ed è stato aperto uno gratuito per chi ha partecipato al quinto regionale che verrà strutturata eliminazione diretta vabbè quello lo sanno i diretti interessati quindi da questo regionale il team ha incassato zero apro quindi il primo piccolo flame inerente a questa cosa di cose che vengono dette in giro se qualcuno ha problemi sul fatto che da questi tornei il team o io personalmente guadagno soldi quelli poi sono cavoli tra virgolette nostri mi trovate su facebook mio nome non mi sono mai presentato chi non lo conosce alessandro crocetti vi posso rilasciare il mio numero di cellulare ma questi sono discorsi un po che non servono a niente perché chi dice così in giro il mio numero ce l'ha quindi se c'è qualche problema mi può contattare per il discorso del invece la disconnessione di dei server di db abbiamo penso trovato una piccola soluzione cioè la soluzione migliore che si può trovare in questi casi migliore non lo so una soluzione che verrà spiegata da amos in un video che andrà sul gruppo relativo ai tornei quindi chi è per caso che passa di qui per la prima volta e non sa di cosa parlo il gruppo per i tornei online che facciamo questo periodo sotto in descrizione lo trova come trova sotto in descrizione e link dei nostri sponsor se deve comprare qualche carta su tcc card market e altri vari link in caso trovate tutti in descrizione se vogliamo darvi qualche nozione diversa dal solito questo primo discorso penso sia chiuso hanno l'ultima cosa sui tornei avevo fatto un post relativo al fatto che si sarebbe giocato questo torneo con eternity code non sarà così perché non sono disponibili su db tutte le carte dell'espansione quindi si giocherà con il metà attuale mf5 le carte disponibili in tgc fino a questo momento questo per il torneo del 26 altra piccola parentesi sul giveaway che in pratica le iscrizioni sono state chiude un po di tempo fa non è andato come mi aspettavo gli iscritti sono pochi non tutti hanno fatto quello che avevo richiesto per l'iscrizione però purtroppo non posso controllare le sole sette persone che hanno fatto tutto quello che avevo chiesto non posso distinguerle dalle altre più o meno venti che hanno fatto un po le cose a metà quindi comunque farò il giveaway tenendo presente le persone che hanno commentato sotto il post con il loro nome e il loro nick per quanto riguarda la piattaforma a cui avevo rindirizzato per l'iscrizione quindi questo per il discorso giveaway aggiungo il fatto che naturalmente ci dovrà essere una data per questo giveaway verrà fatto in live non so ancora come perché non l'ho mai fatto però diciamo massimo durante entro la prossima settimana farò un post su instagram e sul nostro canale facebook del team dove metterò ora il giorno dell'estrazione live che che farò per questi 50 euro di buono amazon o buono tgc questo lo vediamo col vincitore altro piccolo flame che io di solito non non sono per i flame sono contro l'unica cosa che diciamo non sopporto tanto sono i flame inutili come quello relativo agli incassi tornei e come quello relativo al video che ha fatto mario sulla classifica dei migliori team italiani dove noi siamo risultati primi secondo delle cose che mario ha ben descritto allora vi rispondo in questo modo se non ci ritenete il miglior team italiano a meno non interessa però se dite che la classifica non ha senso semplicemente prendete e fate una vostra classifica in base a spiegazioni che date voi magari noi nella vostra classifica non risulteremo primi risulteremo ultimi questo non lo so però siete liberi di fare vostre classifiche personali che ritenete diciamo più oggettive di quelle di quella che abbiamo fatto noi va bene per il resto ci vediamo a un prossimo video un ciao a tutti